Fare innovazione oggi significa costruire un proprio ecosistema di relazioni, significa uscire dalla propria area di comfort, dalla propria azienda, per andare a incontrare chi ha già intrapreso processi e percorsi di innovazione e anche imparare dagli errori, sia del nostro settore ma anche di colleghi di altri settori. E questo è proprio il compito di SMAO, che ogni anno con 50.000 imprese declinate sui territori italiani più dinamici, più interessanti, ma anche all'estero con le tappe di Berlino, Londra, Parigi e la tappa finale di Milano, ha l'obiettivo di farvi incontrare il partner corretto per implementare quell'innovazione che diventa oggi fondamentale. Questi partner sono a sorpresa attori spesso nuovi che fino a qualche anno fa non abbiamo considerato. Ci sono acceleratori, incubatori, start-up innovative che hanno in realtà prodotti o servizi complementari alle nostre esigenze di innovazione. Ma ci sono anche agenzie regionali, per esempio, che ci aiutano a cogliere le opportunità che l'Europa ci offre. Soprattutto altre imprese, altri colleghi imprenditori o manager di divisioni che sono disposti a intraprendere con noi dei percorsi di co-innovazione. Questo è SMAO, come partecipare, noi siamo a vostra disposizione. Contattateci, vi aspettiamo!